Ci troviamo sulla strada provinciale che da Torrenova si innesta verso San Marco d'Alunzio. Siamo poco dopo l'incrocio con la strada statale 113 tra l'abitato di Torrenova, Rocca e poi Sant'Agata Militello. Qui ci sono stati segnalati su questa strada provinciale segnali di dissesto che hanno stimolato svariate iniziative di consiglieri comunali, di dirigenti per vedere un po' di trovare una soluzione a questo problema. L'ultimo incontro c'è stato il 15 marzo alla sede dell'ex provincia regionale di Messina e sembra che i problemi di questa strada potranno essere risolti con le somme del patto per il sud. Ieri mattina insieme al presidente del consiglio comunale Lucia Briola ci siamo voluti regare personalmente presso l'ufficio tecnico della provincia per capire se degli interventi erano stati previsti per risolvere questa criticità che ormai va avanti dall'ottobre del 2010. La novità che abbiamo colto è stata che finalmente questa strada è stata inserita in un elenco di criticità redatto dai tecnici della provincia per la risoluzione della quale si vuole far fronte a dei fondi stanziati per il patto per il sud. Solo che non c'è niente di certo poiché questa serie di interventi devono prima passare dal vaglio del governo nazionale e poi anche dagli organi dell'esecutivo della provincia, quindi del commissario e del sindaco della città metropolitana. Sappiamo anche il periodo di difficoltà in cui versano anche i comuni, dunque qui non si tratta di un intervento di poche somme e quindi siamo impossibilitati come amministrazione comunale a poter far fronte alla gravità di questo problema. Questa è l'unica via di accesso, soprattutto per i mezzi pesanti, che collega San Marco. In caso di scedimenti il comune resterebbe isolato.